Il problema è molto semplice, in Villa Reale trovano sede dei ministeri farsa, un po' bizzarri quantomeno delle sedi di rappresentanza esclusivamente per i ministri in persona e invece non c'è spazio per la scuola d'arte, per una presenza storica nel complesso monumentale della Villa Reale che è costretta a traslocare, non si capisce bene nemmeno dove per la verità e questo è il vero problema, mancano otto aule e noi siamo qui per ricordare che forse la politica in questa fase così difficile per il paese dovrebbe risolvere i problemi e non aumentarne la quantità. Siamo venuti qui a constatare di persona la fruibilità di questi servizi e di questi ministeri del nord, da dentro ci siamo resi conti dell'inutilità di questo decentramento perché abbiamo trovato scrivanie vuote, funzionari di buona volontà che prendono di tutto. Se questo è il decentramento, se questo è il federalismo che stride anche con la manovra economica per cui ti chiudono le province, si accorpano le funzioni dei comuni e si aprono questi ministeri, mi sembra che questo sia proprio il fallimento del federalismo. Questa Villa Reale che dal punto di vista architettonico trasferisce un'immagine di forza e anche di stabilità di fatto ogni giorno è costretta a vivere in una quotidianità di precariato. Precaria è la scuola dell'Isa che è alle mie spalle con i ragazzi che non avranno nemmeno le aule per poter svolgere il loro percorso didattico. Il primo luglio ci è stato comunicato dall'assessore Mangone del comune di Monza la inagibilità di alcune aule che noi occupavamo nell'edificio Ex Borsa. Preso atto della inagibilità abbiamo fatto delle ipotesi per recuperare in Monza, visto che la nostra utenza arriva da ogni polo, delle aule necessarie e indispensabili per poter svolgere lezioni perché ci servono cercando qualsiasi soluzione che comunque fosse nella città perché il sistema dei trasporti, vista che l'utenza arriva da ogni polo, così come è strutturato è sulla città che è baricentrica.